Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Io sono Romina e oggi vorrei parlarvi dei 4 shampoo che sto usando negli ultimi mesi. Sono arrivata al numero 4 perché ho deciso di provare più cose, ho deciso di provare più cose e più economiche per riuscire a darvi più recensioni. Inoltre non sono l'unica a utilizzare questi prodotti perché io abito con la mia famiglia, quindi comunque c'è un ricambio abbastanza veloce. Detto questo direi di entrare subito nel vivo del video e cominciare a parlare dei prodotti. Partiamo con il primo che effettivamente utilizzo soltanto io e l'ho comprato due anni fa in Slovenia e si tratta della linea al verde di DEM, quindi è possibile reperirlo soltanto nei punti vendita DEM. Ed è la linea al cocco che si compone anche del balsamo che sto per terminare e è una linea senza siliconi con ingredienti di origine biologica. Nello specifico questo al cocco è per capelli secchi e rovinati, io non ho guardato tanto quello, anche se al tempo avevo i capelli decolorati e di conseguenza magari poteva essere una motivazione buona, ma semplicemente mi piaceva il profumo perché non è un cocco sintetico, è un cocco abbastanza naturale, quindi gradevole, sa molto di estate. È uno shampoo, secondo la mia opinione, abbastanza delicato dal costo contenuto, adesso io l'ho pagato in Slovenia circa 2 euro, però in Italia immagino che abbia un prezzo leggermente diverso, comunque rientra sempre nell'ambito degli shampoo assolutamente economici. Sono 200 ml ed è un inci molto semplice, anche se in realtà è un po' lunghetto. Lascia i capelli leggermente profumati, abbastanza morbidi, dà il meglio di sé in combinazione al balsamo. Segnalo che il balsamo contiene alcol, quindi io preferisco utilizzarlo soltanto una volta ogni tanto, proprio magari quando utilizzo lui, in quanto l'alcol non andrebbe proprio d'accordissimo con i capelli. L'altro prodotto è Bio Contè, questo shampoo indicato per lavaggi frequenti, dice l'etichetta, testato al nickel, chrome e cobalto, e costa veramente poco perché si tratta di 2,89 euro per ben mezzo litro di prodotto, questo è molto amato anche da mio fratello. È abbastanza schiumogeno, ma non particolarmente sgrassante, quindi se tendete ad utilizzare tanti prodotti di styling, che siano eco-bio, che siano tradizionali, temo che lavarli sempre e solo con questo shampoo e senza alternarlo, senza fare un doppio passaggio, cioè temo, ho testato che non è abbastanza lavante perché è molto delicato, ma facendo due passate di shampoo invece dà il meglio di sé e non lascia assolutamente la cute secca. Questo marchio Bio Contè mi ha regalato tante sorprese, anche per il resto della linea, ed è prodotto dall'azienda Pierpaoli Ecobio, che per i più sarà conosciuta molto probabilmente per la linea Ecos. In etichetta viene segnalato l'estratto biologico di semi di lino, quindi potrebbe essere ottimo per chi ha una texture dei capelli da mossi a ricci, e con questo prezzo così piccolo non c'è più la scusa di dire che i prodotti con il classico buoninci siano costosi, perché abbiamo la prova che non è così. Terzo prodotto, forse non bellissimo da vedere per la soluzione che ho trovato, ma potrebbe essere di ispirazione per qualcuno di voi, intanto vi faccio vedere la scatolina, è di verde sativa ed è lo shampoo solido, attenzione, non è un sapone per i capelli, come abbiamo provato già altre volte sul canale, ma è proprio uno shampoo solido. Questo di verde sativa ha un costo che può sembrare alto, ma ha una resa assurda, cioè il costo è alto, attenzione, perché si parla che a prezzo pieno, questo qui viene 10 euro, ed è una saponetta, diciamo, chiamiamola saponetta, dovrebbe essere 55 grammi. Confrontandolo con altri prodotti solidi, il rapporto qualità-prezzo è un po' un dubbio, bisogna prima comprarlo e provarlo, però garantisco io per lui. Adesso ve lo faccio vedere, vi faccio capire un attimo, perché la soluzione che ho trovato è bruttissima da vedere, ma è molto pratica. Ho preso un gambaletto rotto, cioè proprio letteralmente rotto, ovviamente pulito, lavato, e ho imprigionato il sapone facendo due nodi alle estremità. Quando si va a bagnare, riesce il prodotto a passare attraverso la retina, riuscite a spargerlo comodamente sulla testa senza che vi scivoli, ma soprattutto la cosa stupenda è che poi, quando devo farlo asciugare, lo leggo facendo proprio un nodo al tubo dell'erogatore della doccia, e si asciuga benissimo, senza andare a sporcare niente, il prodotto è asciutto per il successivo utilizzo, e quindi mi trovo veramente benissimo così. Quindi so che esteticamente non è una bella soluzione, ma penso che possa essere utile per chi tende a utilizzare prodotti solidi, e magari non è molto convinto della funzionalità del momento dell'asciugatura, e così via. Ma parlando del prodotto in sé, che cosa posso dire? Si vede che non è una saponetta, perché rispetta il pH della cute e dei capelli, i capelli sono bellissimi una volta che andate ad asciugarli, e vi dirò di più, non utilizzo assolutamente il balsamo, già non lo uso praticamente mai, se no nei momenti in cui vedo che i miei capelli sono magari un po' ispidi, crespi, ispidi sì, crespi, però questo non ho mai avuto la necessità di abbinare il balsamo, perché li lascia veramente molto soffici. Tra l'altro è incartato, quando ve lo comprate, a parte il cartoncino, c'è una specie di pellicola, che sembra plastica, e invece no. Quindi è proprio biodegradabile al mille per mille, che è la stessa cosa di 100%, lo so. Inoltre, ci si mette veramente molto a consumare questo prodotto, in quanto lavora diversamente da una saponetta, quindi non abbiate timore di spendere questi 10 euro, pensando che nel giro di, non so, 10 lavaggi vi finisca il prodotto, perché non è assolutamente così. Se ci tenete alla questione biodegradabilità, inquinamento, incarto, praticità anche per viaggiare, per andare via, perché si tratta veramente di un saponcino piccolo, in confronto di una bottiglietta di shampoo, sceglietelo. Ve lo raccomando, vi assicuro che non ve ne pentirete. L'ultimo prodotto, non voglio dire che sia il mio preferito tra questi quattro, ma è abbastanza... la prima scelta, diciamo, ricadrebbe un po' di più su questo prodotto, per una questione di formula, la praticità, concetto e fiducia. Voi non fate caso a figa, non è normale, piange, passa la sua vita a piangere, per attivare l'attenzione. E si tratta della linea Bio Armon, reperibile nei discount ins. Adesso io non so se nella vostra città ci siano questi discount, però provate eventualmente a vedere dove reperire i prodotti. E prima questa linea aveva un altro nome, che era semplicemente Bio, se non sbaglio, nome molto semplice, ho il bagno schiuma di là da diverso tempo, hanno deciso di fare un restyling dei packaging del nome, del marchio, ma anche della formula, perché comunque dicono nuova formula, e io ho deciso di prendere questo shampoo qui, che è molto buono. Chi bazzica nel mondo dell'eco-bio avrà sicuramente sentito parlare dell'eco-bio control e ancora prima del biodizionario, quindi quel sito che permetteva di scrivere l'ingrediente o addirittura la lista degli ingredienti e di avere la famosissima leggenda dei semafori, semafori verdi, rossi e gialli. Questo prodotto, non so se possa esserci ancora il nome di Fabrizio Zago, che è il creatore del biodizionario qui in Italia, ma almeno nella linea precedente era lui che aveva collaborato con il Laboratorio Verde SRL per creare questa linea di prodotti. E posso dire che si vede. Intanto l'inci è cortissimo, essenziale, lo vedete che è una lista di ingredienti estremamente breve e c'è scritto prodotto con conservanti ecocompatibili, rappresenta una ricetta a basso impatto ambientale, le sostanze impiegate sono completamente e velocemente biodegradabili in tutte le situazioni. Quindi c'è un occhio molto attento alla biodegradabilità. Parliamo adesso dello shampoo. Dovrebbe costare, se non sbaglio, 2,29€. È passato un po' di tempo, quindi non me lo ricordo. 2,29€. Lo shampoo è trasparente, ha un leggerissimo odore di camomilla, molto molto leggero, quasi impercettibile e fa molta schiuma. Per gli amanti dei prodotti schiumogeni indicato. Tra l'altro una bella schiuma densa, molto piacevole. La sensazione è di cute pulita e la cosa bella è che lascia i capelli anche molto lucidi. Non so se si possa vedere, io l'ho lavati qualche ora fa dentro la doccia con questo prodotto. La cosa bella di questo shampoo è che li lascia lucenti, come quelli dei bambini. Tra l'altro si tratta di 300ml di prodotto, quindi abbiamo più prodotto rispetto al classico 250, che è il formato meglio di gli shampoo e anche qui ottimo perché si risparmia della plastica. Ecco i fantastici quattro, ho deciso di inserire anche questo solido nonostante il prezzo immediatamente diciamo alto in quanto poi alla lunga riesce a dare i risultati di economicità che tanto ricerchiamo anche nei prodotti ecobiologici, quindi sono un po' la dimostrazione che non serve spendere tanto per avere dei buoni prodotti, dei prodotti che possono rispettare comunque la nostra pelle e anche il pianeta. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguita, se avete piacere ci vediamo anche su Instagram e al prossimo video si va ad iscrivervi. Ciao!